Ciao, sono Riccardo dei Pinguini Tattici Nucleari. No, evidentemente no. Buongiorno ragazzi, benvenuti alle telecamere e ai microfoni di Radiobase. Ciao! Ciao, ciao. Un saluto generale. Allora, giorno della finale, ci siamo quasi, siete oscillate tra la terza e la quinta posizione, insomma la classifica vi sta premiando. I giovani vi premiano ancora di più. Su alcuni siti siete già i vincitori, parliamo di statistiche per quel che riguarda il popolo under 30. Cosa ne pensate di questo vostro importante successo, direi? Ma guarda, noi siamo molto contenti perché vediamo il coronarsi di un grande sogno, che è quello della nostra vita, cioè di fare della musica che piaccia il più possibile. E abbiamo dei risultati bellissimi in questi giorni, anche nelle classifiche degli streaming, per esempio. E siamo molto molto fieri perché è un lavoro di diversi mesi, molto concentrato, molto analizzato, di cui andiamo tanto fieri, che arriva alla luce finalmente. Ed è bello, veramente bello. Ed è molto bello. Tra l'altro c'è una nostra ascoltatrice, si chiama Francesca, ci dice io leggendo il titolo della canzone ed essendo fan dei Pinguini Tattici Nucleari mi aspettavo una canzone più ironica, pensavo che Ringo Starr fosse una canzone dei biscotti. Che è successo invece? Ma è successo che in realtà abbiamo voluto omaggiare in qualche modo sia Ringo Starr, che è sempre stato considerato il quarto Beatles, perché tu quando parli dei Beatles elenchi sempre prima gli altri tre, però in realtà lui era veramente un genio. Ha rivoluzionato pesantemente il modo di suonare la batteria, la ricerca del suono ed era il groove dei Beatles, ha portato veramente dei cambiamenti incredibili nella musica ed era un po' anche un inno, un omaggio alle seconde linee, quelle che sono sempre nell'ombra e che magari non riescono a brillare, però sono veramente fondamentali e quindi era un po' un omaggio a queste persone. Poi una piccola rivoluzione la state facendo anche voi per il genere che portate. L'indie, non si vede tantissimo indie a Sanremo, ecco, avete... Scusami, l'etichetta di indie a noi non è che dispiace, evidentemente siamo cresciuti in quel circuito, ma dal punto di vista strettamente tecnico, definirci indie, tecnico musicale, è una cosa non del tutto propria. Noi facciamo una musica un po' diversa, un po' più ampia, con degli stimoli un pochino più aperti rispetto al sound indie. e quindi bellissimo che veniamo paragonati a tutto quanto, ma ci teniamo a raccontare la nostra storia personale. Difatti ieri in conferenza stampa qualcuno vi chiese se vi sentivate portavoci della scena nazionale indie, se non sbaglio la risposta fu proprio questa. Eh sì, perché comunque tanti sono i nostri amici, parlando per esempio dello Stato Sociale, Comacose, anche Calcutta, abbiamo condiviso palchi, momenti, backstage ed è bellissimo. Però la nostra formazione, il nostro sound viene da un'altra parte, da una direzione un po' diversa. Io sentivo dire te prima che vivi in un paesino di cento abitanti, ho capito bene. No, 1800. Qualcuno in più, qualcuno in più. Da domani cosa cambia? Niente. Nel senso che nel nostro modo di vivere, la vita quotidiana, in realtà niente, chiaramente ci saranno un sacco di impegni, la nostra vita professionale ci sta regalando un sacco di soddisfazioni e siamo sempre più contenti di buttarci in questo, però nel modo di vivere nei nostri paesini, niente. Cosa vi aspettate da questa sera, ultima domanda? Ci aspettiamo di fare quello che mi ha fatto fino ad ora, ovvero di portare noi stessi su questo palco e quello che verrà, verrà. Noi siamo contentissimi già ora. Siamo contenti anche noi. L'ultimo saluto ai amici di Radiobase. Ciao Radiobase, siamo i Pinguini Tattici Nucleari e vi ringraziamo. Ciao.